A Deiruno manca una piazza, l'amministrazione comunale ha varato un progetto che però l'opposizione non condivide. No, non condividiamo perché si andrebbe a togliere del verde pubblico e la piazza è prevista di fronte all'asilo, un'area messa a disposizione dai privati, ma che è un'area di verde pubblico, una zona storica di Deiruno e non vogliamo andare a cementificare una zona verde, piuttosto lì facciamo un parco pubblico per i cittadini. La piazza invece ha un senso nel centro del paese per rivitalizzare l'urbanistica e le attività produttive, mettere delle fontane, delle panchine e riqualificare la zona del torrente tolsera. Quindi voi che cosa proponete? Noi vorremmo sederci tutti attorno a un tavolo, discutere le possibilità tecniche, fisiche e pratiche per poter fare una piazza nel centro storico di Deiruno come l'urbanistica prevede. Da un punto di vista della manutenzione, le strade qui intorno come sono? Allora, le strade meritano molto molto più attenzione, bisogna curarle, tante sono piene di buche, soprattutto la strada per esempio che porta al viadotto Alcherio, quindi la parte superiore del paese. Ci sono i marciapiedi per esempio del vino donatore che io rifarei completamente. La strada per Izzurro è pericolosa, bisogna accelerare molto sui lavori, si sta lavorando, si è mosso qualcosa anche grazie ai nostri interventi, ma dobbiamo accelerare sulla strada di Izzurro perché lo chiedono soprattutto i cittadini, ma lo vuole la sicurezza. Il gruppo di minoranza 9 in 1 critica l'idea di realizzare una nuova piazza di fronte all'asilo. Sindaco Gatti, come stanno le cose? Nel mese di febbraio il Consiglio Comunale ha approvato lo schema dell'atto di donazione da parte dei fratelli Gilardi di un'area verde e verrà questo atto firmato poi dopo l'approvazione della variante del PGT nel prossimo mese di maggio. Un grazie sentito e particolare va appunto ai fratelli Gilardi, Carlo e Sandra e alla loro compianta sorella Giuseppina perché ci donano ben 2300 metri quadri di verde che sono all'interno e in centro paese davanti alla scuola dell'infanzia. Quest'area per sua estensione e localizzazione è sempre stata considerata dalla nostra amministrazione ma anche da quelle precedenti un'area molto bella e anche molto adatta per creare un luogo di aggregazione, di socializzazione, di svago e di riposo. Se vogliamo ecco piazza in questo senso, non tanto come piazza in termini di cemento, giusto come precisazione. Detto questo, tante sono già le idee tra l'altro che abbiamo raccolto, sono i suggerimenti vari. Uno è realizzare un'area attrezzata per parco giochi per bambini di tipo inclusivo, quindi vuol dire che anche i bambini con disabilità possono accedere. Ricavare degli spazi invece dedicati più a riposo per anziani ma anche per giovani con delle sedute, mantenere magari anche orti e coltivazioni varie perché così anche i bambini vedono anche gli orti e poi invece avere uno spazio che può essere dedicato alla realizzazione di eventi che creano appunto socializzazione incontro. Tutto questo fra le varie anche lanciare una campagna perché per realizzare tutto questo occorrono fondi e soldi. Quindi lanciare una campagna del tipo nonni regalate, donate un gioco ai vostri bambini. Dopo la firma appunto dell'atto sicuramente l'amministrazione comunale lancerà un concorso di idee per la progettazione e la realizzazione di questo spazio polifunzionale. Naturalmente io sono per dire che vincerà quel progetto che meglio si inserisce, meglio mantiene vitale questo cuore verde che c'è in centro del paese e di cui tutti, molti di noi siamo affezionati. Grazie